Sono molto contento di continuare con il Pescara. Con queste parole Davide Merola ha commentato la firma posta stamani sul contratto che lo lega al Pescara per i prossimi tre anni. In poco tempo, mezza stagione, Davide Merola si è subito imposto come punto di forza del Pescara nelle prime partite della gestione Colombo e ancora di più con l'avvento di Zeman, che lo aveva avuto con sé a Foggia l'anno prima e che ne ha voluto fortemente la conferma. Un rapporto particolare è quello tra Zeman e Merola col Boemo che più volte ha pungolato l'attaccante cresciuto dall'Inter e ora prelevato a titolo definitivo dall'Empoli. Merola dunque può proseguire il suo percorso di crescita come pilastro del nuovo Pescara dopo le 19 presenze e 8 gol tra campionato e play-off, collezionati nei primi mesi del 2023. Intanto prosegue la campagna acquisti del Pescara e nelle ultime ore, dopo l'addio alla pista Massolo, c'è stata l'accelerata per il portiere di proprietà del Cagliari Giuseppe Ciocci, che arriva in prestito dal club isolano. Ciocci due anni fa è stato titolare nell'olbia di Canzi e ha sfidato il Pescara di Auteri in campionato e Coppa Italia. Lo scorso anno è rimasto nel Cagliari Primavera, ma a ottobre ha subito la rottura del legamento crociato di un ginocchio e ha giocato una sola partita. Al momento sembra il vice di Prizari, ammesso che quest'ultimo resti a Pescara. Altro innesto, a titolo definitivo, è quello della mezzala Denis Manu, ventenne nato a Chiari in provincia di Brescia da genitori ganesi e cresciuto nelle giovanili delle Rondinelle per poi approdare nella scorsa stagione in D a Matera. Per il centrocampo restano aperti altri fronti, San Nipoli della Latina e il giovane De Marco della Vibonese, a fronte dell'uscita di Palmiero, Avellino, e quelle imminenti di Germinario Lombardi, destinati al Pineto e soprattutto Mora. In attacco il Pescara insiste per Russini, possibile titolare a sinistra nel tridente con cambio a Cornero e a fronte della cessione di Colai, vicino al Cesena. A destra la coppia Merola-Masala, in mezzo Lescano e Vergani con Cuppone-Gioli, almeno in questo momento, perché poi le dinamiche di mercato potrebbero portare lontano da Pescara proprio uno tra Lescano e Vergani. Pescara che attende anche sviluppi per la cessione di Raffià con la Sampdoria di Radrizzani, che sembra ora in vantaggio sulle altre pretendenti. Intanto da domani al Mastrangelo di Montesimano inizieranno i primi test in vista dell'avvio della preparazione vera e propria che, stando alle previsioni meteo, partirà sotto una potente canicola.